Passiamo adesso la parola al dottor agronomo Giovanni Mazzuoli, iscritto all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Firenze. Ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie presso l'Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi in batteriologia fitopatologica. Ha svolto attività di tirocinio in varie aziende agricole presso lo studio professionale agrotema di Firenze, mettendo a frutto le proprie conoscenze e competenze tecniche. Attualmente gestisce da imprenditore agricolo la propria azienda dove produce uva e frutta. Sensibile ai temi della sostenibilità delle produzioni, collabora con Biodea. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio l'Accademia per l'ospitalità in questa splendida cornice, ringrazio Biodea per l'occasione di crescita professionale che mi sta dando e inizio con il mio argomento che sono i meccanismi di difesa delle piante in relazione anche al ruolo che svolgono i prodotti Biodea in tal senso. Dobbiamo innanzitutto sottolineare che le interazioni tra organismi patogeni e piante sono regolate oltre che dall'ambiente dal grado di variabilità genetica che c'è nelle loro popolazioni. Ad esempio tra i patogeni che non sono in grado di parassitare una pianta può talvolta comparire un mutante in grado di farlo che prende il sopravvento. Si può comprendere quindi che le piante reagiscono in tal senso sviluppando delle strategie e questi processi non hanno fine e si determinano quindi la graduale evoluzione di queste due popolazioni, quella delle piante e quelle dei patogeni, in un continuo equilibrio dinamico tra di loro. I meccanismi di difesa delle piante possono essere suddivisi in due grandi macrocategorie che sono i meccanismi di difesa passivi o pre-infezionali e i meccanismi di difesa attivi post-infezionali. Entrambi questi meccanismi possono essere sia di natura fisica strutturale ovvero barriere fisiche o di natura biochimica, barriere metaboliche ovvero sostanze chimiche sintetizzate dalle piante. I meccanismi passivi sono tutti quei meccanismi che sono messi in atto precedentemente al tentativo di infezione del patogeno mentre quelli attivi avvengono successivamente al tentativo di infezione. Come meccanismi di difesa strutturali passivi svolgono un ruolo di particolare importanza nelle piante la cuticola e i tricomi. Entrambi ostacolano l'adesione delle spore mentre la cuticola anche la penetrazione e i tricomi l'inoculazione di alcuni patogeni come ad esempio i virus che vengono inoculati da insetti vettori. Qua vediamo due foto, una in basso a sinistra che dimostra l'iroreperlenza dovuta alle cere che sono sostanze contenute che si trovano sulla superficie delle foglie sulla cuticola e i tricomi in basso a destra su foglie di stelo di pomodoro in serra. Per quanto riguarda i meccanismi invece di difesa strutturali di tipo attivo le piante reagiscono agli agenti di disturbo con dei cambiamenti di natura strutturale che possono essere l'apertura o la chiusura degli stomi, la formazione di nuovi tessuti a contatto con l'agente di danno, l'estrusione di materiale amorfo con l'ispessimento delle pareti cellulari e la deposizione interna di callosio e la produzione di gomme e tille sia negli spazi intercellulari che all'interno delle cellule impregnate anche di tannini che sono sostanze antibiotiche. Questo meccanismo di produzione di tille e gomme nei vasi legnosi è un meccanismo molto diffuso e efficace contro patogeni vascolari come ad esempio i patogeni del mal dell'esca o i funghi del genere verticillium. Vediamo qui una foto di vasi legnosi di vite dove abbiamo la produzione di gomme all'interno e questo è un tipico esempio di reazione di difesa ad esempio nella sintomatologia delle venature brune della vite contro i funghi del complesso esca. Qua ho messo la teoria della compartimentazione di sciago perché è un ottimo esempio di dimostrazione di come le piante reagiscono agli agenti patogeni, in particolare in questo caso agenti di carie, quindi funghi, basilio, miceti e ascomiceti, attraverso la creazione di barriere sia fisiche che chimiche. Queste barriere sono riassumibili in quattro tipologie principali, l'occlusione degli elementi vascolari, il rafforzamento delle cerchie annuali, la superificazione e la linificazione, la formazione di una zona di reazione xilematica, a separare lo xilema presente nel momento della lesione da quello che si formerà successivamente. Qua nella foto i vasi linfatici con la formazione di tille, queste estroflessioni delle cellule parenchimatiche verso l'interno e poi abbiamo i meccanismi di difesa biochimici pre-infezionali che consistono fondamentalmente nella sintesi di proinibitine e fitoanticipine che sono molecole prodotte dal metabolismo secondario, sono direttamente funghi tossiche oppure possono diventarlo in seguito all'attivazione da parte di enzimi e la loro presenza è limitata in genere a tessuti in vicinanza dell'epidermide. Per quanto riguarda i meccanismi post-infezionali, dobbiamo svolgere un ruolo di primaria importanza la local acquire resistance, la resistenza locale acquisita, che si ha come conseguenza dell'interazione tra geni di resistenza della pianta e degli elicitori. Gli elicitori che cosa sono? Sono delle sostanze di origine sia biotica che abiotica che sollecitano nella pianta una reazione di ipersensibilità. Questo tipo di reazione che avviene entro poche ore dal tentativo di infezione del patogeno consiste nella morte della cellula che subisce il tentativo di infezione e anche delle cellule circostanti, in maniera tale da isolare il patogeno in quel punto della pianta e non permettergli di colonizzare le cellule adiacenti. Qua vediamo la sintomatologia su foglia di tabacco della reazione di ipersensibilità. Questa sintomatologia si può osservare ad esempio inoculando soluzioni di batteri, ad esempio pseudomonas siringhe su foglia di tabacco. E poi abbiamo un basso ossidativo, un vero e proprio scoppio ossidativo con produzione di composti ossigenati dell'ossigeno, un rafforzamento delle pareti cellulari e un accumulo di acido benzoico e acido salicilico. L'acido salicilico, vedremo, induce numerosi geni a produrre le PR proteins e le fitoalessine. Cosa sono le PR proteins? Sono proteine di cui se ne conoscono 17 famiglie all'incirca, di alcune si conosce l'attività antimicrobica, di altre non se ne conosce ancora la specifica attività. Per quanto riguarda invece le fitoalessine, sono composti lipofili a basso peso molecolare sintetizzati dalla pianta intorno al sito di infezione. Qua ho messo alcuni esempi di elicitori rilasciati dai funghi, che in genere sono componenti della parete cellulare di alcuni generi di funghi e variano a seconda del genere. E qua le fitoalessine, dal greco fitoalexos, protettori delle piante appunto. Sono una vasta gamma di metaboliti secondari di diverse famiglie chimiche, tra le quali abbiamo anche gli stilbeni, tra i quali il resveratrolo, sostanza molto studiata per gli effetti benefici anche sull'organismo umano. Sono sostanze che vengono prodotte sia nelle piante suscettibili che nelle piante non suscettibili. La loro produzione è licitata, come in altri casi, da frammenti della parete fungina e qua abbiamo la formula del resveratrolo, che è contenuto ad esempio nella buccia dell'uva, nei mirtilli, nello cioccolato fondente, nei pistacchi, in svariati alimenti. Tuttavia, come ricordato in introduzione, le popolazioni dei patogeni e delle piante sono in un continuo equilibrio dinamico, per cui alcuni funghi, come ad esempio la botrytis cinerea, riescono a degradare le fitoalessine. E quindi risulta molto importante mantenere queste sostanze all'interno delle piante a concentrazioni elevate, per permettere alle piante di resistere ai patogeni. Vedremo più avanti come si riesce a fare ciò attraverso l'utilizzo dei prodotti biodea. Abbiamo poi due tipi di resistenza sistemica, la resistenza sistemica acquisita e la resistenza sistemica indotta. La resistenza sistemica acquisita è una risposta difensiva che fa sì che la pianta comincia a esprimere una serie di geni, sia localmente, sia sistemicamente, in tutto il resto della pianta, nei tessuti distali. Per cui si producono sostanze all'interno di tutta la pianta, causando una resistenza notevole e una resistenza anche ad attacchi successivi dei patogeni contro un ampio spettro di microrganismi. Qua, a confronto, la resistenza sistemica acquisita con la resistenza sistemica indotta, quest'ultima ha una resistenza, a differenza della prima, dovuta a microrganismi non patogeni attivi sulle radici e attiva contro i necrotrofi, come ad esempio la bottrice cinerea vista prima, ed è mediata da acido iasmonico. È una sorta di attivazione di stato di pronta allerta della pianta per infezioni successive, diciamo. Qua, in inglese, riassunte queste differenze con un piccolo schema, e infine la wound response, la resistenza a ferita. Le piante infatti reagiscono a attacchi di insetti, a ferite provocate da insetti attraverso questo tipo di meccanismo. In pratica le piante producono degli inibitori delle proteasi. Le proteasi cosa sono? Sono delle proteine che scindono il gruppo amminico dal gruppo carbossilico delle proteine stesse. E quindi attraverso questi inibitori c'è questa mancata scissione e i tessuti vegetali risultano indigesti agli insetti, che vengono scoraggiati nell'attività atrofica di alimentazione. Qua le formule dell'acido salicilico e dell'acido iasmonico che fungono da mediatori. E infine perché è importante favorire le naturali difese delle piante. Allora, c'è da sottolineare che i consueti trattamenti a base di rame riescono sia a contenere entro certi limiti ad esempio l'occhio di pavone, la spilocea oleaginia su olivo o la plasmopora viticola, la peronospora della vite. Tuttavia causano effetti fitotossici su determinate specie cultivar ad alte dosi o anche a dosi normali, dando ingiallimenti e bruciature sulle foglie, rugginosità sui frutti, si legano alle argile del terreno, risultano scarsamente degradabili e provocano un'attività di abbassamento della fertilità del suolo perché hanno effetti negativi su lombriche e microorganismi. Inoltre hanno anche un impatto negativo sulle api e quindi sono da evitare infioritura soprattutto nei fruttesi. Come fare ad evitare questi inconvenienti? Attraverso il distillato di vienio biodea, il biodea flavori, con cime organico, biodea vital vegan, si riescono a evitare questo tipo di inconvenienti. Questi prodotti contengono più di 300 sostanze sinergicamente attive, sostanze organiche, che fanno sì che i livelli di fitolessine nelle piante e aumentino in maniera importante. Abbiamo poi anche un'ottimizzazione della fotosintesi clorofiliana con un aumento della sintesi di carboidrati complessi, pectine e polisaccaridi, che inducono resistenza verso i patogeni del suolo. Si ha anche un aumento della sintesi dei lipidi e delle scere che abbiamo visto all'inizio sono molto importanti perché si trovano sulla cuticola e permettono all'acqua di scivolare sulle foglie, con anche un irrobustimento della membrana cellulare e una resistenza ai patogeni epigei. E anche una conversione in polifenoli complessi, tra cui anche sostanze aromatiche di particolare importanza, che rivestono appunto un ruolo importante nel valore nutraceutico dei frutti, perché conferiscono un valore aggiunto ai prodotti ottenuti attraverso questi prodotti. Per quanto riguarda l'induzione di resistenza verso i patogeni del suolo, volevo sottolineare che attraverso l'utilizzo del distillato di legno biodea e dei microorganismi utili, in combinazione soprattutto contro patogeni come i funghi del genere fusarium, si stanno avendo risultati eccellenti in campo in svariate tipologie di colture. Le piante quindi si vengono a trovare in una miglior condizione di fitness, diciamo, in una miglior condizione di salute e sono meno soggette a stress abiotico e biotico. I benefici sono molteplici, possiamo ricordare il migliore assorbimento dei nutrienti, la migliore efficienza fotosintetica, l'aumentata allegagione e la servevolezza dei frutti, l'attività che ha il prodotto simile a uxinica, quindi di potenziamento dell'apparato radicale, il migliore assorbimento dei prodotti usati in combinazione, i residui zero, i tempi di carenza zerati, la maggior capacità delle piante di cicatrizzare le ferite, la migliore induzione a fiore, l'effetto brachizzante importante soprattutto su articole, la creazione di ambiente sgradito a insetti dannosi e non ai pronomi che invece vengono favoriti, e la dissuasione, è stato visto anche questo, dei caprioli dalle colture, in particolare in vigneto. Io vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon proseguimento dei lavori, spero di non essere stato troppo lungo e grazie ancora. Grazie. Applausi. 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 Grazie.